Dal 14 al 16 giugno Rimini sarà di nuovo invasa da un mare di libri, festival dei ragazzi che leggono. La manifestazione realizzata dall'Associazione Culturale Mare di Libri, in collaborazione con Rizzoli, prevede tre giorni con oltre 30 eventi, 40 autori italiani e stranieri tra i più amati dai ragazzi, laboratori e spettacoli teatrali. Tutto all'insegna del divertimento culturale e della condivisione delle proprie esperienze letterarie. Una novità è che sono tre eventi su dei classici, in cui abbiamo dei testimoni ad attori o scrittori che ci verranno a raccontare dei classici realmente molto amati dagli adolescenti, quindi non solo quelli che vengono veicolati solo dalla scuola, ma quelli che veramente loro amano. L'incontro di apertura con Deborah Ellis, autrice di Sottolburga, in cui si parlerà di Afghanistan. L'incontro con un'autrice canadese, un'altra autrice canadese domenica, Suzette Meyer, che invece presenterà un romanzo su un tema molto forte come quello del bullismo a scuola e alcuni autori stranieri, per esempio un autore inglese come Paul Doswell, che è un autore di romanzi storici, o un grandissimo illustratore francese come Benjamin Lacombe, che farà degli incontri e di cui avremo anche una mostra. Un festival fatto da e per i ragazzi, che con un modesto budget ha saputo nel tempo farsi sempre più spazio anche nel cuore dei giovani riminesi, che ogni anno partecipano in numero sempre maggiore alla tre giorni. I ragazzi leggono più degli adulti, le ragazze in particolare. Diciamo che all'interno del festival, tra l'altro, noi avremo anche questa piccola mostra di ritratti fotografici, di lettrici, con l'intenzione proprio di fotografare una punta statistica. I più forti lettori in Italia sono ragazze che hanno tra i 15 e i 17 anni, quindi per noi farne vedere i ritratti è anche un modo per combattere un po' il pregiudizio per cui si sente sempre dire che i ragazzi non leggono.